M2O, musica allo stato puro, è su Dual Disc, M Dual Shock, da un lato CD, 15 tracce mixate, dall'altro DVD, 15 video mixati con audio 5.1 M Dual Shock, il Dual Disc La rivista Poster e il calendario 2006 dei DJ di M2O, sono in tutte le edicole e nei negozi di dischi, a 12,90 euro, M Dual Shock, il Dual Disc di M2O, è in tutte le edicole e nei negozi di dischi. In allegato trovi anche Pianeta M2O, la rivista Poster, con il calendario 2006 e le foto dei DJ di M2O. M Dual Shock, da un lato CD, 15 tracce mixate, dall'altro DVD, 15 video mixati. M Dual Shock, il Dual Disc, nei negozi di dischi, e in tutte le edicole, con la rivista Poster Pianeta M2O, a 12,90 euro.